Ciao, sono Silvano. Io sono Alessandra. Io sono Matteo. Io sono Luca. Ciao, sono Alex, coordinatore del gruppo del Cerebration, ma anche responsabile del festival e della programmazione musicale. Mi occupo della parte della comunicazione e del controllo di gestione, oltre ad essere uno dei responsabili di progetto. Mi occupo invece del settore musicale, della programmazione musicale. Sono il vicepresidente dell'associazione Cerebration. Durante il festival mi occupo della parte logistica. Al festival mi occupo della cucina e del bar. Per quanto riguarda il nome Cerebration, diciamo che deriva dall'unione di due parole, da un verbo, to celebrate, e dalla parola cerebro. Quindi in un certo senso si può parlare di celebrazione di cervelli e di quello che la mente può creare, può partorire. Il Cerebration Fest è nato nel 2011 da un gruppo di studenti, tra cui anche artisti, e in un momento storico particolare, il momento della fuga dei cervelli. Il Cerebration nasce inizialmente grazie ai contributi dell'Università di Padova e dell'ESU di Padova, che hanno fortemente creduto al nostro progetto. Nasce anche da un'esigenza comune di creare spazi per la cultura, l'aggregazione giovanile, uno spazio dove la gente può relazionarsi e star bene insieme. Il primo obiettivo è appunto quello di produrre cultura. Uno degli obiettivi del Cerebration è quello di formare gli studenti e le persone a competenze spendibili anche all'interno del mercato del lavoro. Il Cerebration Festival. Nelle ultime cinque edizioni abbiamo ospitato oltre 50 associazioni, 30 gruppi musicali, 30 laboratori formativi. Nelle ultime edizioni abbiamo avuto 5.000 persone in cinque giorni. Quest'anno abbiamo scelto di finanziarci anche tramite il crowdfunding, perché crediamo nella condivisione e nel sostegno di tutti, così come abbiamo sempre fatto attraverso i volontari, le associazioni, i gruppi musicali, artistici e teatrali. Cerebration Festival, 20-24 maggio, Parco Fistomba, Padova. Vi aspettiamo! Sostenete il Cerebration!